Vorrei fare una precisazione che riguarda Ampal, la società nazionale per l'impiego, visto che hanno fatto un comunicato sconcertante. Apprendiamo con rammarico e stupore che la giunta regionale della Campania non ha approvato la convenzione fra Ampal Servizi e Regione Campania, si riferiscono ai navigator. È un'affermazione assolutamente scorretta da parte di Ampal. Noi abbiamo fatto il 17 ottobre a Roma un incontro, c'è stato un incontro fra me e il Presidente di Ampal. Nel corso di questo incontro la Regione ha chiesto la contrattualizzazione dei navigator e basta. Cioè voi avete fatto la selezione, avete l'obbligo di contrattualizzare i navigator, la Regione non c'è. Che cosa era scritto nel documento, a scanso di equivoci? Perché è cominciato il gioco al suo scarico di responsabilità? Il documento è approvato il 17 ottobre. Il Presidente della Regione ha sottolineato come la Campania abbia ereditato pesanti sacche di precariato e ha chiesto ad Ampal il supporto nella realizzazione di progetti sul tema. Cioè chiediamo l'assistenza tecnica di Ampal per progetti di lavori socialmente utili relativi ai precari storici e ai disoccupati, i BROS. Quindi noi abbiamo ipotizzato un progetto per mandarli a lavorare nei parchi pubblici di Napoli e dell'area metropolitana. Per questo chiediamo un'assistenza tecnica. Ampal ha garantito il pieno sostegno tecnico per la definizione dei progetti di ricollocazione di lavoratori precari. Il primo impegno dell'incontro di Roma era questo. Secondo, il Presidente della Regione ha poi sollecitato la stabilizzazione dei lavoratori precari già impegnati in Ampal da anni e la contrattualizzazione delle figure individuate nella selezione fatta a primavera da Ampal, i navigator. Quindi io ho chiesto la contrattualizzazione. Non c'era nessuna convenzione da firmare e da non firmare. Si è sottolineato da parte del Presidente dell'Ampal, sto leggendo il documento del 17, a scanso di equivoce. Il Presidente di Ampal ha sottolineato la necessità di un impegno di Ampal Servizi, oltre che sulle tematiche del reddito di cittadinanza con i navigator, anche su un ventaglio di attività di assistenza e sostegno, che possono coinvolgere gli enti locali, le strutture pubbliche come l'Inps e compagnia bella. Quindi il Presidente di Ampal, non io, si è impegnato a utilizzare i navigator, oltre che per il reddito di cittadinanza, per le sedi Inps, per gli enti locali. Non c'è nessun cenno alla Regione. Dovete contrattualizzarli. Poi decide Ampal, in piena autonomia, come utilizzarli. Punto. Allora, è un comunicato assolutamente scorretto, che non rispecchia quello che abbiamo firmato a Roma. Ho la sensazione che dovremo fare a breve un altro incontro con gli amici di Ampal, per chiarire loro le idee. Li inviteremo intanto ad essere corretti, non sono stato chiamato da nessuno prima di questo comunicato, e gli rispiegheremo la posizione della Regione Campania. Chiediamo l'assistenza tecnica per i progetti di lavoro socialmente utile, che riguardano disoccupati e precari. Basta, non chiediamo altro. Poi, la responsabilità della contrattualizzazione è di chi ha fatto la selezione, cioè di Ampal. Non credo che ci sia molto da chiarire. Quindi, sicuramente avremo qualche altro incontro. Gli spieghiamo bene, se non hanno capito, quello che devono fare. Nell'incontro di Roma, per la verità, il Presidente si era impegnato a contrattualizzarli, subito dopo il ritorno da un viaggio negli Stati Uniti d'America. Ci ha comunicato che andava negli Stati Uniti per due settimane al rientro. Questo è tutto. Ci vuole molta pazienza, ma credo che alla fine arriveremo a far fare questa contrattualizzazione da parte di Ampal, senza alibi e senza cercare di scaricare responsabilità, su chi questa responsabilità non le ha.